Vengo 8 giorni alla 8 ore Sì, 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 basta e porto la carta di identità e il codice fiscale dietro comunque No, no, della persona ne firma la proposta, capito? E i soldi due mesi di fa al deposito Eh? Va bene? Grazie, fammi sapere a questo numero allora Eh, finché non si segue, finché non si fa la proposta Le locazioni non è che posso parlare con la proprietaria Quando ho tutta la documentazione firmata da voi Le due mesi di vita al deposito al garante Io parlo con la proprietaria